I rettiliani I rettiliani sono detti uomini rettile o uomini serpenti e sono tra le razze aliene che hanno maggior rapporto con i terrestri. I riferimenti sono addirittura antecedenti all'Antico Testamento dove si citava il serpente che tentò Eva come un essere manipolatore e bramoso di potere. Sono originari della Costellazione del Dragone e attualmente sono presenti a quanto pare in molte zone della galassia. Nel 1934 sembrerebbe che l'ingegnere Warren Schufter scoprì sotto la città di Los Angeles un'intricata rete di cunicoli e stanze di cui si ignorava l'esistenza. Le autorità impedirono a Schufter di procedere con gli scavi egli tuttavia disegnò una mappa precisa di quello che aveva scoperto. Schufter non sapeva che la sua scoperta era solo la punta di un iceberg di un'enorme città sotterranea. In seguito parlando con un indiano opi venne a conoscenza di una leggenda su un'antica razza di uomini lucertola che abitavano quella città sotterranea fino a quando una pioggia di meteoriti ne distrusse gran parte. Nonostante questo i rettiliani non si estinsero con i meteoriti. Quelli che vivevano nella città sotterranea di Los Angeles erano soltanto una delle tante comunità. Sono esseri che non possono fare a meno del potere. Sono dei muta forma, possono cambiare aspetto e si dice che tramandano il loro DNA nell'elite di generazione in generazione. L'obiettivo dei rettiliani è la sottomissione dell'intero pianeta.